Le case sono fatte per viverci e per essere guardate. Ceramiche Galassi, 3000 metri quadri di esposizione, marmi, parchè, ceramiche, sanitari, porte, finestre e termoidraulica delle migliori marche. Dal 1960 siamo specialisti in marmi antichizzati e mosaici. Ceramiche Galassi, promo Domo Tua. Prima di scegliere, passa da noi. Galassi e Afferentino, strada statale Casilina, chilometro 69-300. Grazie a tutti.